Dopo più di due anni di lavoro, vediamo qua la prima collezione del bagno ispirata dalla Carta. Abbiamo una completa ispirazione che viene dal nostro DNA, perché la sala da bagno non è più soltanto un fatto funzionale, ma sarà un posto dove vivere parte del tempo libero. Quando arrivavamo in contatto con Cartel, abbiamo capito che siamo una sorta di amici. L'idea era, da due parti, portare un nuovo emozione nel bambino, ma anche portare un'innovazione. Cartel by Laufen è un progetto che si riassume in tre parole, ecologia, eleganza e emozioni. Il bagno è la zona delle emozioni sulla pelle, la zona dei sensi e dei sentimenti, credo. Poter mettere insieme così tanti elementi e concretizzare un'unica cosa che si potesse definire la pura emozione in bagno. Riusciamo a dare a questa linea di bagno un touch di design che potrà conquistare il mondo.